guardate che panino mi sta facendo che devo mettere? peperoni, friarielli, melanzane peperoni e porciutto porciutto cotto? si quello la da un euro grazie perché noi rimane in fila si ma economica come si mangia? economica economica però si deve per la seccata scusa è vero che è porciutto in euro però c'è staccatela ecco è sempre così va a finire ok ora si ho due addirittura in fila tre è molto favore questo è il capolavoro fatto da mia socia ciocciutto e peperoni ora si può fare una parola per leggeria come ha già fatto? io te la picardina non lo ha già mangiato non lo ha già fatto non lo ha già fatto non lo ha già fatto a casa 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 fra poco ti vede la mia aspetta sordo sotto andò video eh ma hai scritto a me? che cosa? hai scritto sotto andò video a me? il video di scappo a te? io non ti ando meno a casa io non ti ando meno 30 euro non è spizio Ah, dappone tu rego? Ah, è strano. Ah, è strano. Ah! 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 Dai, tu sei esagerato? Ra, veining... No, no! daran si passeasse... Adesso hai fax un vino, diceva. E un vino bubbi! Sì. Affinato! Tu fiii ridili. Mamma...? Carboni e bunei a scattare!